Siamo qui al teatro di Altamura e vorrei dedicare questo effetto a John Scann, un famoso barro prestigiatore. Qui ha un suo libro e allora venite con me. Bene, siamo dietro le quinte del teatro. Giuseppe, un mazzo di 52 carte, cuori, quadri, fiori e picche. Mescolo. Ora tu dovrai scegliere una carta più o meno al centro del mazzo. La fai vedere in camera e la firmi con questo pennarello in modo da renderla unica. Metti una bella firma, la fai vedere in camera e vado a metterla più o meno al centro del mazzo. Va bene? Taglio. Vado a sferdere la carta completamente. Anzi, ti dirò di più. Io vado a mescolare le carte all'americana. Conosci questo mescuglio? Sì. Più o meno. Anzi, te la senti di mescolare le carte? Sì. Piego. Allora, io recupero dal mio taschino questo portafogli. All'interno ci sono banconote, carte di credit, eccetera. Puoi girare sotto sotto il mazzo. do un colpettino sulle carte e ti faccio notare a te, alla telecamera, che all'interno c'è una carta legata. Vedi? Che carta che hai scelto? Asso di picche. Asso di picche. Con la tua firma. E proprio qui.